Adesso spettiamo quelle che sono le valutazioni del governo, poi è chiaro che c'è un tema legato all'assemblamento, l'assemblamento va in qualche modo protetto e bisognerà trovare tutte le forme che ci cautelino dalla condizione dove le persone vicine ovviamente sono esposte o un rischio del contagio. Adesso cerchiamo di capire che cosa deciderà l'orientamento del Comitato Tecnico Scientifico e quindi la proposta del governo.